ciao capricorno benvenuto andiamo a vedere anche per te cosa hanno da raccontarti le mie carte le lascerò assolutamente libere di raccontare di parlare quindi possono andare in qualsiasi direzione lo vedremo insieme ok chiederò loro che novità ci saranno per il tuo segno zodiacale andiamo a vedere allora per il capricorno quali novità ci sono cosa c'è in ballo per il capricorno segno zodiacale del capricorno ci si muove con impeso e velocità qui c'è una situazione vedi schium veloce bambam che richiede quantomeno determinazione caparbietà il movimento veloce capricorno il capricorno cosa c'è per il capricorno cosa c'è in ballo capricorno qualcuno noterà il tuo valore magari sul lavoro magari verrai notato da qualcuno insomma andiamo a vedere non è finita non è finita quindi magari il capricorno a un qualcosa in ballo che crede che reputa morto e sepolto per un motivo x magari forse proprio il lavoro no ecco però qui questo angelo sembrerebbe proprio venirti a dire guarda non darti per vinto non darti per morto diciamo perché qui non è finita c'è un qualcosa che tornerà voglio dire in vita non mi vede la parola ma voi mi capite ogni tanto mi si inceppa boh vabbè importa capricorno che novità ci sono per il capricorno corno c'è un forte feeling quindi mi potrebbe parlare anche di di una coppia per esempio e amica fedele eccola la o di un'amicizia c'è un forte desiderio ma allora qui queste carte in primis le vediamo proprio letteralmente poi andiamo un po a scavare allora qui ci può essere proprio il caso di un'amicizia con cui magari avevi avuto un diverbio c'era stato un qualche guarda sarà fatta chiarezza se sarà fatta chiarezza e ciò c'è il mio cane in sottofondo non so vabbè dormi sempre adesso faccio il video non si sa chi abbaia o comunque la facciamo stare l'amore mio ecco quindi qui ci può essere la come posso dire vedi non è finita e il feeling con l'amica fedele quindi qui c'è un qualcosa che noi reputiamo riteniamo a torto a ragione è per carità finito concluso morto rovinato chiamatelo come vi fare e invece le carte ci stanno dicendo no questa situazione tornerà in auge tornerà alla vita quindi magari un'amica che avevamo perso di vista per esempio che potremmo semplicemente risentire rivedere potrebbe rifarsi viva lei insomma ok vedete un pochino nella vostra situazione personale ma anche qui vedo il lavoro quindi magari se siete in un momento difficile in un momento difficile lo dico perché c'è questa carta di non è finita ok in un momento difficile lo potrete superare tranquillamente potremmo parlare anche del lavoro anche se io che ci vedo più un rapporto con una persona è che sia d'amicizia o di altro vi devo dire la verità però se parliamo di lavoro o comunque di una situazione personale di altro tipo e non sia un rapporto qui vedo insomma che la situazione si risolleva qui potrebbe arrivare anche un aiuto da parte di un'amica che può riguardare il lavoro per esempio magari ci può aiutare offrendoci qualcosa insomma eccetera eccetera ma vediamo le altre carte va bene capricorno qui c'è un qualcosa che si risolleva un qualcosa che torna ad aumentare velocemente quindi è calato il lavoro questo riprende non so se mi spiego un'amica e non vedevamo che non sentivamo se li fa viva ma qui c'è anche proprio una collaborazione di un qualche tipo con qualcuno capito quindi un fare un qualcosa insieme con qualcuno qualcuno che c'è molto caro perché qui c'è la carta proprio del forte feeling con questa con questa persona ok vediamo per il capricorno cosa vedete per il capricorno qui c'è un proposito quindi qui abbiamo un qualcosa in mente c'è un progetto un'idea un qualcosa che ci siamo preposti prefissi che vogliamo raggiungere quindi qui c'è anche una certa sicurezza una certa certezza da parte del capricorno di dove voglia arrivare e che cosa voglia ottenere quindi qui ti stanno parlando secondo me di un proposito di un qualcosa che stai cercando di ottenere quindi lì devi andare ad attaccare ad appiccicare quello che ti dicono queste carte verso la tua vita ok l'accettazione qui c'è un progetto un qualcosa che viene accettato una proposta che viene accettata quindi se hai chiesto mi viene da pensare se hai inviato un curriculum questo viene accettato cioè una sua proposta verrà accettata punto ecco che sia il tuo sventolare bandiera bianca per far la pace con qualcuno viene accettato vengono accettate le tue scuse per esempio dico questo perché c'è la carta di questo angelo che mi parla di un qualcosa che torna alla vita un qualcosa che tu reputavi morto e sepolto che invece non lo è qui c'è un tuo proposito un qualcosa che verrà accettato quindi già queste carte sono molto molto belle molto molto positive ma vediamo l'ultima parola aspetta i carocchi va bene allora per il capricorno cosa c'è in ballo per il capricorno ok il 4 di coppe diciamolo qui se no non ci si entra più ok per il capricorno cosa c'è in ballo per un altro 4 il 4 di bastoni per il capricorno l'imperatrice vedi il 3 di denari la temperanza va bene la temperanza allora qui c'è una situazione che sicuramente va a migliorare che va a sistemarsi una ritrovata serenità una ritrovata tranquillità per te capricorno qui c'è una collaborazione anche qui c'è una collaborazione collaborazione che può essere un fare un qualcosa insieme a qualcuno che può essere l'accettazione di un tuo progetto di una tua richiesta da parte di qualcuno può essere l'aiuto da parte di un'amica di amici insomma perché qui fanno vedere anche gli amici può essere anche un lavoro che senz'altro riuscirai a trovare ma anche l'aumento la crescita di un qualcosa che può essere del tuo denaro del tuo lavoro della sicurezza in te stesso qui ti vedo anche in mezzo alla gente qui ti vedo anche in mezzo alla gente quindi tu farai qualcosa senz'altro con qualcuno c'è una riunione molto importante di persone persone che si riuniscono insieme per decidere qualcosa per il capricorno ma qui c'è un qualcosa o che avevi perduto o che ti mancava che riesce a ritrovare di cosa si parla o lo so tu lo saprà se qui c'è una collaborazione ti vedo qui c'è un qualcosa devi collaborare con qualcuno o qualcuno che arriva ad aiutarti capito che voglio dire esattamente qui ci sarà molto molto belle queste carte qui ci sarà un aumento del lavoro un aumento di entrate di denaro sicuramente esatto e qualcuno che ti aiuta guarda là guarda là un qualcuno che ti aiuta un qualcuno che ti aiuta che ti porta a a realizzare questo suo proposito che avevamo visto ti ricordi? ok quindi qui c'è una collaborazione importante quindi magari tu va a lavorare presso qualcuno che tu conosci tu ti metti a lavorare in un progetto insieme con qualcuno e questo ti aiuta perché tu ero un pochino fermo insomma capito? qui il capricorno è sicuramente in ripresa sia economica sia lavorativa insomma qui c'è stata c'è una preoccupazione molto importante per il capricorno però ti garantisco che qui tu vai a sistemare tutto ci vuole un pochino di tempo sicuramente ti vedo un po' un po' spallato non so come meglio dire vedi esattamente qui c'è stato il crollo di qualcosa il crollo di qualcosa lavorativo il crollo lavorativo un crollo economico magari dovevi fare qualcosa ma te l'hanno impedito capito? qui c'è stato proprio la sì non mi viene un'altra parola il crollo di quello che avevi costruito magari se tu lavoravi da solo o per conto tuo insomma qui qui c'è stata una perdita te lo nego ma c'è la ripresa qui c'è un qualcosa che viene ricostruito dopo questa perdita sicuramente vediamo ancora per il capricorno ma perché tu farei qualcosa con qualcun altro capito? qui c'è il mettersi insieme con qualcuno capricorno vedi? qui c'è un qualcosa con qualcuno un contratto un aiuto guarda è il superamento di tutto il carro te lo ridico un'altra volta qui c'è qualcuno che ti aiuta ma non che ti aiuta che ti fa l'elemosina per l'amor di Dio no 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 qui c'è un mettersi insieme come si dice e l'unione fa la forza mettersi insieme con qualcuno va bene? accordarsi con qualcuno per superare quello che stai vivendo boh io non lo so di cosa cioè non lo so lo so ma per ognuno di voi poi va spalmato alla propria situazione personale specifica precisa capito capricorno? quindi qui c'è la riuscita c'è il superamento senz'altro di tutto questo che stai vivendo c'è l'aggiustamento di tutto quindi come dire guarda non è finita qui c'è un momento un po' difficile che tu sta passando che tu hai passato qui fanno vedere insomma con tutte le pezze addosso di uno che ha combatto con una guerra insomma ecco però qui c'è proprio l'accordo l'accordo proprio anche commerciale con qualcuno un contratto di lavoro una società magari ti metti in società con qualcuno per fare qualcosa ti viene riconosciuto un contratto una posizione cioè qui c'è proprio un un superamento e un miglioramento della tua posizione sociale economico lavorativa eccetera se si parla più semplicemente di un'amicizia e basta cioè se non vogliamo mettere in mezzo i lavori soldi situazioni della vita più complesse qui c'è semplicemente un ritrovare un'amicizia un recuperare un'amicizia che credevamo per essere rovinata per sempre ecco qui si mette a posto anche questo quindi a questo punto ti lascio la parola dimmi che cosa di cosa ti hanno parlato queste carte e cosa stai vivendo va bene capricorno in bocca al lupo e se sei proprio sepolto dalla puntini puntini che sei in difficoltà pensa al trionfo di questo gladiatore va bene un bacione e al prossimo video ciao capricorno eccoci qua vi lascio ai miei no ciao Grazie a tutti.